Davide Scavone Bravo, tranquillo In la distanza dentro sai cosa fa? Su le mani che lui lo vuole di boxe Fa il tuo combattimento Meno calcio Fai calmo Davide Tenti dentro sotto, stai sempre pronto Vieni sulle mani Bene, chiuso così, bravo Sulle mani Bravo, quello è il nostro, è il punto Vieni a dovinare il centro Andiamo Dopo l'altro Per da loco e campo Resta, dite Adesso che il fango передa continuo a dubilando adesso prendi piazza e tra un po' di paura bravissimo è un take down sta attendo a scazzare gli altri sta attendo a scazzare gli altri così, ancora rimanda sulla testa schiaccialo, non fare sale schiaccialo, chiedite su, schiaccialo così, ogni volta in corte continuo a dubilando un minuto Davide continuo così Davide continuo così quello che abbiamo aderato con calma, schiaccialo i colpici sta in tempo a braccia, non passiamo in tiro così, meglio per corte con calma caricati che tirano punti con calma, doppio forza, manca fuori che si mi si cambia continuo a rialzare li alzare li alzare via, ti do io 30 secondi continuo a dominarlo Davide non ti stancare via, con il ginocchio toglielo 30 secondi continuo a dominarlo con i colpi continuo a dominarlo così ancora se esce tirlo al centro e schiaccialo schiaccialo Davide 20 secondi 20 secondi attento a Kimura attento a Kimura marcha Kimura e schiaccialo 10 secondi Davide azione bravo 10 vai adesso domina la fine cerchi il grande po' forza stai attento a Nallemar 5 secondi Davide il round è tuo bravo sulle mani Davide sulle mani Davide sulle mani così sulle mani non ho metà lì tieni sulle mani sai cosa devi fare attenzione bravo sempre il mercato sempre chiuso bello lì non insisto è troppo sulle mani Davide sul mano sul bacio a destra sul sinistro con camera vedi il gatto vai vai adesso mai che c'è mai che c'è non faccia non ti impaticare tina in postura e controllalo e controllalo continua l'almen c'è l'almen lì ripro l'almen poi sull'orecchio si può fare quella cosa a ballo stai detto a Kimura stai detto a bar stai tirando porto in postura l'almen sulle mani sulle mani metti il destro non faccia il gioco non faccia il gioco un minuto Davide passato sulle mani sulle mani sulle mani in destra Davide sulle mani avvicinalo con calma ragione davide che vi è sempre cambiato sulle mani sulle mani Davide sulle mani così ancora sulle mani Davide destro Davide ancora bene per calci bravissimo adesso comini fino voglio trovare il calci controlla quel campo controllalo controllalo è concato rilassati picchia un minuto alla fine Davide controlla il passino controlla il passino picchia Davide così ancora picchia colpi forti Davide ricordi che il pop mi hai fatto così ancora 10 secondi Davide 10 secondi Davide ok ok bravo bravo Vai Davide, guardami le parti sai cosa fare, guardami le parti sai cosa fare, 30 secondi passate, sulle mani, tocco di Gatti, sulle mani Davide, continua così Gatti, sulle mani, sulle mani, sulle mani Adesso Davide con calma, con calma, respira e prendi fiato, continua, lavora sulle gambe Davide, portagliele via, adesso lavori, lavori con calma, vieni su, fai in grande in pound con calma Davide, con calma, vai Così, forza Davide, prendi i pugni, e ci è passato un minuto, continua con il grande in pound Davide, continua con il grande in pound, continua con il grande in pound Attento alla gamba sinistra che viene su, attento alla sua gamba sotto, così, tieni la postura, continua e tieni la gamba sotto, guarda qua la gamba sinistra che viene su, stai attento con la gamba sinistra Bravissimo Davide, ancora, scusate che viene su, stai attento alla sua gamba sotto, senti che viene su, continuo con il grande, continuo con il grande, postura, continuo con il grande, niente grip Forza, vai Davide, qualcosa, è entrato Davide, è entrato Davide, preso in pieno, continuo un minuto, sopra e sotto, sopra e sotto Davide Fai i punti, dai Davide, non ti fa male Manca un minuto alla fine Davide, un minuto hai visto Continua a dominarlo Meno di un minuto Davide Arbitro non è giusto, arbitro, no, 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 che cazzo aspetti Sai cosa voglio fare Arbitro E' male Davide Davide 10 secondi! Tutto! Tutto! 10 secondi! Ancora! Forza ancora! 10 secondi! Forza! Vinto! Vince! Per posizione unanime Davide Scavalli! Davide! 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 Davide!